Sono Orfeo Dallatà, corretore del progetto Veriscurlo. Veriscurlo è un progetto cofinanziato dalla Monodologia nell'ambito delle attività dimostrative del programma di innovazione e che ha come obiettivo lo sviluppo di un navigatore energetico. Il navigatore energetico guida tutte le persone coinvolte nella gestione del programma di gestione dell'energia all'interno delle scuole e vuole assistere gli amministratori locali che hanno solitamente il compito di prendere decisioni sugli investimenti e i dirigenti scolastici che nell'ambito della loro autonomia devono implementare o scegliere delle azioni per il risanamento. Gli energy manager e i partner manager che hanno il compito poi di attuare. Il tutto in accordo con lo standard internazionale ISO 50.000. Il navigatore energetico è già stato sviluppato nella sua versione prototipale ed installato nelle quattro scuole pirota che sono due in Italia, all'ESA, a provincia di Novara e Genova, in Bulgaria a Oldib e in Porto d'Arlo a Lisbona. Attualmente siamo nella fase di selezione degli scenari di ottimizzazione che il navigatore ci offre e nella loro implementazione seguendo lo standard ISO 50.000. Recentemente, settimana scorsa, il progetto di Red School è stato selezionato come il miglior progetto dimostrativo nell'ambito dell'associazione degli smart city e un city, in particolare del programma Green Digital Charter. Quindi abbiamo ricevuto questo premio come miglior progetto dimostrativo.